Siamo con Sascha dell'azienda Vinicola Radicon. Sascha che vini avete portato oggi? Oggi abbiamo portato i nostri vini principali che sono l'Oslavia, un uvaggio, la ribolla e lo Yakot che è un Tokaj fiurano. Dov'è situata l'azienda? L'azienda è a Oslavia, sui colli della Gorizia, le colline che sovrastano Gorizia. Che tipologie di vini producete nella complessità totale? Tutti i nostri vini sono focalizzati sull'idea della macerazione, la maggior parte per il 90% sono vini bianchi e vengono tutti fatti con una macerazione sulle bucce, alcuni vini con una macerazione più breve, altri con una macerazione addirittura molto lunga che arriva fino ai 4 mesi e con invecchiamenti anche molto lunghi, quindi che arrivano fino a ai 6 anni praticamente, prima di essere immessi sul mercato. Io vedo qua, permettemi, Yakot, è un nome un po' furbo, è un nome furbo che non con nient'altro che toccare al contrario. Molto simpatica, Yakot. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.